Aruba Drive ti consente di modificare in qualunque momento le impostazioni del tuo account utente, come il nome, la foto profilo, le informazioni biografiche, la visibilità del profilo e tanto altro. Per iniziare clicca sull'icona del tuo profilo nell'angolo in alto a destra, lì nel pannello, e seleziona la voce impostazioni. Dalla schermata che appare puoi notare come le impostazioni sono organizzate per schede. Da informazioni personali puoi modificare l'immagine del profilo utilizzando una foto già esistente, oppure caricando una nuova foto presente nella galleria multimediale del tuo device. Puoi modificare il nome utente, la lingua che desideri utilizzare. Puoi cambiare l'indirizzo email di riferimento, aggiungere uno o più indirizzi email da associare al profilo. Puoi modificare o aggiungere il numero di telefono, la tua posizione geografica, condividere i tuoi account social con il team, inserire le informazioni biografiche e visualizzare lo spazio utilizzato. Se la tua utenza appartiene a un gruppo puoi visualizzarne i dettagli e gestire la visibilità del profilo cliccando sul pulsante indicato. Seleziona l'opzione che si adatta meglio alle tue esigenze. Ad esempio per limitare ciò che è visibile agli altri devi impostare la visibilità del profilo su Nascondi. Una volta ultimate le modifiche effettuate in questa pagina si salveranno automaticamente.